Penne in mano per gli studenti delle scuole primarie della città insieme per imparare a giocare con i numeri e le lettere tra i banchi dell'Istituto Comprensivo Statale Pietroleone. È la sesta edizione del progetto Giocando verso la scuola media che ha coinvolto 140 alunni delle quarte e quinte classi di tutte le scuole primarie. Due le prove affrontate dagli scienziati e linguisti in erba che tra rebus, cruciverbe, esercizi di completamento e quesiti di logica hanno dato prova delle loro abilità acquisite durante il loro percorso scolastico. Spetterà poi alle insegnanti della scuola media Pietroleone valutare gli elaborati ed infine premiare gli studenti con attestati di merito, libri ed enciclopedie durante l'open day previsto per il prossimo 17 gennaio. Oggi è la sesta edizione di questo progetto che abbiamo avviato appunto sei anni fa Giocando verso la scuola media in cui vengono coinvolti ragazzini di quarta e quinta elementare delle scuole del nostro territorio. Il progetto nasce dall'idea di avvicinare questi ragazzi a questi giochi per stimolare la logica, l'intuizione, la fantasia perché del resto questi bambini vanno stimolati in quanto le competenze logiche, linguistiche si acquisiscono anche tramite dei giochi. Allora il progetto ha diversi obiettivi quello didattico di cui ha parlato la professoressa Calabrese e quello invece trasversale che riguarda soprattutto il voler far misurare questi bambini con un'esperienza nuova perché rispetto al passato loro non hanno mai affrontato delle prove di esami prima c'erano le prove di esami in seconda elementare, in quinta anche quelle di quinta sono stati eliminati nel tempo e pertanto non hanno la possibilità di misurarsi con delle situazioni diverse rispetto a quelle che vivono nell'ambito della propria classe, della propria scuola. Noi abbiamo continuato in questi sei anni in questa scelta comunque di promuovere questo concorso proprio perché abbiamo visto il successo che ha avuto questo concorso è un'esperienza particolare anche per noi vedere questi bambini che affrontano la prova con grande serietà. Come sempre anche in questa edizione avremo una premiazione che si svolgerà domenica 17 gennaio la premiazione sarà suddivisa sia per le quarte che per le quinte sarà avverendo in due momenti diversi e contemporaneamente la scuola sarà aperta e offrirà la possibilità a chi vuole di visitarla di vedere un po' le attività che si svolgono, i laboratori in vista proprio della scelta dei bambini di quinta per l'iscrizione alla prima media. Devo dire che siamo molto molto soddisfatti della partecipazione a questo concorso però effettivamente è un'esperienza perché è un concorso in cui tutti vengono premiati quindi è più uno stimolo ad impegnarsi in queste attività che è un vero e proprio concorso però i bambini vengono numerosi e ogni anno sono abbastanza soddisfatti di come si svolgono e dei premi che ricevono.